Oh ragazzi eccoci qua bentornati su eFootball, bentornati signori, oggi è un altro lunedì quindi altre carte speciali. Abbiamo quelle della Ligan Uber Eats, bellissimo, bellissimo, ci abbiamo Bappé e Messi signori nel pool. Un pool molto interessante, lo andiamo a vedere insieme e andremo a fare la nostra classica di esamina e analisi. Ovviamente prima di iniziare vi ricordo di attivare le notifiche del canale e di vedere i link in descrizione perché c'è il canale Telegram e la piattaforma Viola. Ovviamente nel canale Telegram queste carte ve le ho mostrate appena sono state leccate dai Football Hub, ormai più di una settimana fa. E mi raccomando entrate lì perché i leak escono, escono a profusione. È già uscito anche il leak della leggenda che uscirà giovedì. E la piattaforma Viola ragazzi ci saranno delle live di approfondimento sempre sui Football e su molti altri titoli ovviamente. Come scritto da Konami queste carte sono dedicate alle prestazioni nelle coppe europee appunto della Ligan, della Lega Francese. Andiamo a vedere, c'è scritto qui, ecco gli autori delle prestazioni migliori nelle competizioni di Coppa Europea 2021-2022 e con una competenza stile di gioco di 80, quindi parte da lì. Poi su Twitter si è creata una vera e propria, non lo so, polemica perché appunto c'è Suameni che è ufficiale a Real Madrid dal 11 giugno ragazzi e qua viene mostrato con magliette del Monaco e bla bla bla. Quindi si sta creando un po' di confusione ragazzi, perché dicono ma si può fare una cosa del genere con i diritti d'immagine di sicuramente Suameni e il Real Madrid? Si può fare una cosa del genere anche se è basata su una carta del 2021-2022? Molto strano, molto strano che sia presente Suameni e si teme che ci sia un'altra manutenzione aggiuntiva per eliminare questa carta. Devo dire che Konami non è molto furba sotto questo punto di vista e magari si lascia andare ancora a delle sviste molto problematiche ragazzi. Però vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa succederà. Allora, cominciamo con la disamina e partiamo ovviamente dalla carta che è meno interessante ma che è utilizzabile secondo il mio punto di vista. Stiamo parlando del buon Paillet che è una carta, anzi un giocatore che io ho amato è una carta super romantica secondo me 1 su 11 livelli 1,75 x 77 kg è un trequartista può fare diverse zone del campo come vedete dal grafico in alto a destra e comportamento offensivo 75 che secondo me è un po' da alzare per un trequartista è molto importante controllo palla 83, dribbling 81, possesso stretto 81, passaggio raso terra 82, passaggio alto 83. Quindi come stats di partenza ci siamo assolutamente ricordo che lui ha 11 livelli quindi un potenziamento assolutamente sul dribbling ci sta senza problemi magari il passaggio lasciatelo così. Calci da fermo 85, tiro a giro 85 molto molto buono velocità e accelerazione sono un po' bassini quindi qualche punticino lo butterei anche lì per il resto è una carta super utilizzabile stile di gioco di squadra contro piede veloce come predefinito sull'80 come vi dico sempre i punti bisogna metterli anche lì abilità giocatore, finta doppio passo, veronica a giro da distante finalizzazione acrobatica quindi vi potete divertire anche a tentare la fortuna con i tiri quelli fighissimi tipo biciclette o rovesciate passaggio filtrante, passaggio calibrato, cross calibrato, esternaggino, rabona e leader una bellissima carta ragazzi frequenza piede debole sporaticamente precisione piede debole molto alta quindi anche con il sinistro rende alla grande se non sbaglio Pagliè tra l'altro calcia le punizioni di sinistro ma lui non è, scusate ma Pagliè è sinistro? fatemi sapere nei commenti ragazzi io mi ricordo che Pagliè è sinistro non è destro vabbè poi ne discuteremo comunque usa benissimo entrambi i piedi questo è poco ma sicuro e niente Shetty Peel si è approvato assolutamente per Pagliè vi potete divertire con lui anche perché schilla pure abbastanza ho visto e poi ci dedichiamo a Verratti che abbiamo già visto mi sembra in un'altra carta speciale 1 su 9 livelli 89 di overall 1,65 x 60 kg comportamento offensivo non ci interessa controllo palla 88 dribbling 86 possesso stretto 90 passaggio alla sua terra 89 passaggio alto 88 ricordo 1 su 9 livelli di potenziamento questo attenzione a Verratti perché ha delle stats fenomenali sul dribbling veramente fenomenali in mezzo al campo potrebbe essere un giocatore che si gira e rigira a 360 senza premere lo scatto in una velocità incredibile comportamento difensivo già buono sul 74 di partenza contrasto 78 aggressività 80 coinvolgimento difensivo 75 quello che vi consiglio assolutamente è di potenziare velocità e accelerazione e tutto sulle stats difensive stile di gioco di squadra predefinito sull'80 quindi qualche appunticino anche lì queste sono le abilità del giocatore ragazzi che sono anche molto buone per un centrocampista centrale come vedete passaggio di prima passaggio filtrante passaggio calibrato anche l'esterno a giro e frequenza piede debole raramente precisione piede debole alta comunque anche di sinistro può andare a risolvere molte situazioni terribili e pericolose quindi shady pills assolutamente approvata per verratti ragazzi e poi vediamo anche shaw meni vediamo anche shaw meni ragazzi perché in mezzo al campo può essere veramente un'arma un'arma molto forte un metro 87 per 81 kg quindi molto ruccioso ragazzi 21 anni 12 livelli parte da un 86 di overall controllo palla 80 dribbling 76 possesso stretto 79 passaggio verso terra 82 passaggio alto 81 colpo di testa 73 il che non è male per uno che comunque è un metro 87 in mezzo al campo può anche andarla a prendere di testa come partenza non è male quindi vi consiglio di tenerlo d'occhio potreste anche buttare qualche punticino sul colpo di testa comportamento difensivo 71 contrasto 76 aggressività 77 coinvolgimento difensivo 73 le stats difensive di partenza non sono male quello che vi consiglio visto che shuameni ha già una buona velocità di partenza è di gestirvelo un po' a vostro piacimento o potenziate un po' il dribbling specialmente il dribbling appunto e il possesso stretto e tutte le stats difensive oppure lasciate così shuameni e potenziate tutto sulle stats difensive e tutto su velocità e accelerazione stile di gioco di squadra con predefinito via laterali poi a vostro piacimento decidete cosa potenziare queste sono le abilità del giocatore lui può giocare comunque in una zona del campo che va dal mediano fino al centrocampista centrale la tre quarti la lascerei assolutamente perdere frequenze piede debole raramente precisione piede debole e media quindi occhio quando andate ad utilizzare il sinistro con shuameni e poi ci dedichiamo al buon Mark Ineos altro difensore centrale lo conosciamo tutti 1,83 x 75 kg comportamento difensivo 83 contrasto 86 aggressività 80 coinvolgimento difensivo 84 lui ha 7 livelli di potenziamento velocità 75 accelerazione 74 la potenza di tiro non ci frega salto 87 contatto fisico 76 controllo corpo 74 resistenza 77 lo sapete che Mark Ineos all'inizio non mi sembrava molto forte poi con le varie patch è diventato veramente una bestia ragazzi quindi se lo trovate secondo me risolvete la difesa la risolvete senza problemi tra l'altro può giocare anche come mediano e tersino destro però quello che vi consiglio è assolutamente di farlo giocare difensore centrale e di potenziarli tutto sulle stazze difensive e velocità e accelerazione queste sono le abilità c'è anche il colpo di testa frequenza piede debole raramente precisione piede debole e media vabbè ma non ci interessa più di tanto mi raccomando ragazzi potenziatelo su stazze difensive e velocità accelerazione c'è di pilza approvata assolutamente assolutamente e ora passiamo al grande Leo Messi Leo Messi ennesima carta di Leo Messi ragazzi mi chiedete se non lo so io ovviamente non le prenderò queste carte non ci proverò nemmeno però per chi vuole tentare la fortuna visto che sono praticamente tutte carte forti ci può provare potrebbe trovare anche questo Messi che ha delle stats come al solito incredibili 1 su 7 livelli 93 di overall comportamento offensivo 86 controllo palla 90 scusatemi fermo un attimo ovviamente ragazzi ovviamente chi ha già Messi è inutile ragazzi trovare un altro Messi è inutile fate una cavolata anche chi ha Mbappé ragazzi anche chi ha Mbappé che tra l'altro secondo me Mbappé in questo gioco non è che sia tanto forte devo dirvi la verità sia l'ho provato sia io e l'ho provato anche tantissime volte l'ho trovato contro non mi mette mai in difficoltà Mbappé veramente molto molto strano comportamento offensivo 86 dribbling 89 controllo palla 90 possesso stretto 89 passaggio raso terra 84 passaggio alto 83 finalizzazione 89 che statistiche ragazzi calci da fermo 88 tiro a giro 88 veramente delle stats incredibili per Leo Messi che è forte ragazzi è forte in questo gioco velocità 71 accelerazione 81 potenza di tiro 78 controllo corpo 90 stile di gioco predefinito parte da un possesso palla sull'80 a vostro piacimento ve lo giocate insomma ve la giocate voi sotto quel punto di vista abilità giocatore guardate quante sono quante abilità importanti dalla tre quarti in poi frequenze prede debole quasi mai precisione prede debole comunque alta quello che vi posso consigliare ragazzi è di lasciare così le stats praticamente del dribbling e di potenziare finalizzazione velocità e accelerazione per il resto lasciate perdere e potenziate ovviamente lo stile di gioco di squadra c'è di pilsa super approvata perché non può non esserlo Messi è super forte ragazzi e occhio alla sua statistica che è il regista creativo ragazzi occhio perché se fa il trequartista tende molto a scendere verso il centrocampo quindi io lo userei assolutamente o punta o seconda punta non andate a utilizzarlo trequartista a meno che voi non decidiate di avere un tipo di gioco in cui vi serve il trequartista che scende quello è ovvio quello è ovvio attenzione perché prima ho parlato di Mbappé ma ovviamente se lo trovate dovete essere contenti perché comunque è una buona carta però può essere molto più forte di quello che è rappresentata nel gioco un metro e settantotto per settantate tre chili 93 di overall uno su sei livelli il grande Killian comportamento offensivo 84 controllo palla 83 dribbling 88 possesso stretto 83 passaggio alla sua terra 78 passaggio alto 72 non che ci interessi molto anche perché a noi ci interessa più che altro per una punta il passaggio a raso terra e un 78 di statistica va abbastanza bene devo dire finalizzazione 84 colpo di testa 81 calcita fermo 79 tiro a giro 74 velocità 89 accelerazione 89 potenza di tiro 76 salto 71 contatto fisico 73 controllo corpo 82 che non è male resistenza al 79 magari qualche punticino sulla resistenza bisogna darglielo però comunque resiste fino almeno al 70 75 resiste ragazzi senza problemi allora quello che vi posso consigliare è di alzare quelle statistiche in dribbling possesso stretto e controllo palla assolutamente perché molta gente non l'ha fatto cercare di alzare un po' la finalizzazione e lasciar perdere velocità e accelerazione non la toccate ragazzi è già alta potenziatelo su altre situazioni stile di gioco predefinito è il possesso palla queste sono le abilità del giocatore vi potete divertire anche a skillare imparando le skill e frequenza piede debole sporadicamente precisione piede debole alta non so se consigliarvelo un bappé però ovviamente se lo trovate ve lo consiglio quindi shady pills approvata non posso dire di no non posso assolutamente dire di no quindi ragazzi queste sono le carte di oggi giovedì ne usciranno delle altre domani dovrebbe tornare anche il rotto glory alle 13.45 io vi ringrazio siete stupendi anche nel gruppo telegram vi mando un bacione e vi auguro finalmente delle buone vacanze ragazzi divertitevi rilassatevi e niente io vi accompagnerò ancora con tutti i video che arriveranno fino a settembre e poi da settembre partiranno tutte le serie più importanti che ci possano essere proprio incredibili c'è sta The Last of Us che uscirà il 2 settembre che porteremo assolutamente sul canale il remake ovviamente poi arriverà FIFA arriverà anche la Master League prima o poi vabbè lì se ne parla primavera del 2023 però continueremo assolutamente anche con i football arriverà Warzone il nuovo Warzone 2 Modern Warfare tutto insomma un sacco di roba ragazzi un sacco di roba mamma mia non vedo l'ora che fomento che fomento allora ci vediamo domani ragazzi vi mando un bacione ciao ciao ciao